Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono lasciati ufficialmente a inizio agosto, ma sembrava che continuassero a sentirsi nonostante la rottura. Tuttavia, recenti indiscrezioni sembrano mettere fine alle speranze di una riconciliazione. Mirko è stato avvistato in discoteca a Milano con due ragazze misteriose, lasciando il locale insieme a loro a fine serata. Alcune voci suggeriscono che Mirko potrebbe avere un ruolo nella prossima stagione di C'è posta per te. Tuttavia, la sua presunta presenza in un locale con due ragazze ha alimentato speculazioni sul suo attuale stato sentimentale. Dopo la rottura con Perla, Mirko sembrava aver avuto segnali incoraggianti di un possibile riavvicinamento. Tuttavia, la scoperta di una conversazione clandestina con l'ex Greta Rossetti sembra aver definitivamente interrotto ogni possibilità di ritorno di fiamma. Nonostante le speranze dei fan di una possibile riconciliazione, le recenti indiscrezioni sembrano confermare che Mirko potrebbe essere impegnato sentimentalmente con altre persone. Resta comunque da confermare se il suo presunto coinvolgimento in C'è posta per te possa essere una realtà. Mentre i fan si interrogano sulla verità dietro ai rumors, resta da vedere se Mirko Brunetti farà davvero parte del cast del popolare programma televisivo. Restate sintonizzati per scoprire cosa riserverà il futuro per l'ex concorrente.